Le persiane è sempre importante poterle fermare. Esistono vari tipi di ferma persiane, di vari costi anche. In questo caso abbiamo un semi automatico, perché fa la chiusura automatica, e è fatto tipo ometto. Ora vi spiego come metterlo senza incorrere in problemi. Se la persiana passa sopra alla soglia, chiamiamola, vuol dire che facendo questo piano non avremmo problemi. Quindi lo andiamo a riportare. Una cosa da calcolare è sempre che dal piano della persiana al buco c'è un disassamento, che normalmente è di un centimetro e mezzo, quindi portarlo sempre sotto al piano della persiana. In questo caso, noi l'abbiamo già segnato, ma per rendervi l'idea, questo qui è il piano della nostra soglia, e questo punto qui è dove noi andremo ad esercitare il foro. Non esagerare nello stringerli. E ora, quando aprirai la persiana, in automatico verrà bloccata. Lo stesso se te la dimentichi aperta. Arriva lì e si blocherà, così non sbatte e non si deteriora. Ciao!